Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Sonia e mi sono laureata all'Università degli Studi dell'Insubria. Ho frequentato sia il corso di laurea triennale in Economia e Management, sia il corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, scegliendo tra i due curricula quello finanziario. E attualmente lavoro alla Deutsche Bank. Se vi state chiedendo se scegliere l'Insubria è una scelta che rifarei, assolutamente sì, perché all'Insubria hai la possibilità di non essere un numero, una semplice matricola, ma di essere un individuo e di instaurare un rapporto, un contatto diretto con i docenti, cosa che in ambito universitario è decisamente importante. E inoltre avete la possibilità di partecipare attivamente alla vita universitaria attraverso ad esempio attività quali possono essere il tutorato piuttosto che l'orientamento. Quindi scegliete Insubria!